Il 5 agosto del 99, l'allora ministro dell'Università, Ortensio Zecchino, firmò il decreto che sancì la nascita dell'Ateneo di Foggia, già operativo da alcuni anni come sede di staccata di Bari, che oggi conta 10.700 iscritti e 6 dipartimenti. Per celebrare la ricorrenza, l'Università del Capologo Dauno ha organizzato una serie di appuntamenti in programma nei prossimi mesi. Si comincia il 28 aprile con l'inaugurazione dell'anno accademico. Alla cerimonia parteciperà il ministro dell'istruzione dell'Università della Ricerca, Stefania Giannini. Il 5 maggio ci sarà il trasferimento del centro di ricerca biomedico nella nuova sede che sorge in Via Napoli, alla periferia della città. La moderna struttura ospiterà i dipartimenti di medicina clinica e sperimentale, di scienze mediche e chirurgiche. Il 19 maggio invece si svolgerà l'Open Day nell'Aula Magna della Facoltà di Economia con numerosi incontri e dibattiti. Tra giugno e luglio poi è in programma un tour che in 12 tappe sul Gargano, meta di milioni di turisti ogni estate, permetterà all'Università di Foggia di presentare la propria offerta formativa. È stato un periodo intensissimo per lo sviluppo del nostro Ateneo che ha collocato l'Ateneo di Foggia fra i primi nell'ambito della ricerca a livello nazionale e penso che sia un gran bel risultato. In genere quando si parla di classifiche, quando si fa riferimento ai soggetti pubblici, vengono collocati agli ultimi posti della graduatoria. Noi abbiamo l'orgoglio di poter dire che dopo 15 anni dell'autonomia siamo invece collocati ai primissimi posti della graduatoria, del ranking nella valutazione della ricerca scientifica.